Come è l'integrazione? Come è l'integrazione? A capirle, a lavorare per qualcun altro, quindi il nostro paese è ben disposto sicuramente in questo. Il nostro mestiere, c'è anche un premio giornalistico, è quello di raccontare i fatti. Quando dobbiamo però raccontare queste belle notizie, fa bene al nostro paese? E' naturalmente, fa bene al nostro paese e anche a chi lavora in queste cose, perché la soddisfazione di dire sto facendo qualcosa che forse è utile ad altri è una soddisfazione importante.